possiamo procedere si procediamo all'appello allora della seduta 11 11 2020 presidente russo assente consigliera giroffi assente consigliera caronia assente consigliere ferrara assente consigliera menti e gentile assente consigliere melluso assente consigliere tantillo presenti lo presenti un solo presente consigliere un solo presente perfetto non essendo stato raggiunto il numero legale la seduta è rinviata alle ore 10 e 09 perfetto a dopo ok va bene una buona giornata tra poco grazie d'accordo